Perché dopo le atrocità della seconda guerra mondiale, le classi dirigenti di sei paesi illuminate capiscono che occorre mettere in comune la produzione di quello che le aveva messe l'uno contro l'altro, il carbone e l'acciaio, per creare un sistema che da economico sarebbe diventato politico per garantire pace, stabilità, prosperità in un contesto quanto più laico possibile.